E adesso veniamo a Paralvi di Temptation Island con questa dichiarazione abbastanza a sorpresa sulla coppia Francesca Baroni e Ruben Invernizzi. Insomma la coppia che durante il programma si sono lasciati dopo circa due anni di storia d'amore. Non è il fatto che si siano lasciati, ma il come si sono lasciati che ha fatto molto discutere nel web. Ossia lei è stata veramente molto dura nei confronti di Ruben Invernizzi che anche durante l'ultimo falò, ha subito abbastanza la sua personalità e le sue parole. Parole che sono state molto criticate nel web. A tal punto che abbiamo letto molte critiche nei suoi confronti. Di fronte a queste critiche è intervenuto però a difesa di Francesca lo stesso conduttore Filippo Bisciglia che ha fatto comunque notare che Ruben era perfettamente, a conoscenza del pensiero, della fidanzata in quanto, reso noto durante i provini. Scrive Filippo Bisciglia in difesa di Francesca Baroni. Francesca Baroni e Ruben Invernizzi. Le cattiverie di Francesca? Ruben sapeva tutto anche prima del programma? Già i provini, ci aveva raccontato questo sue debolezze, e lo aveva fatto davanti a Ruben. Francesca non è cattiva. La sua intenzione non era distruggerlo sulla pubblica piazza. E voi? La pensate come il conduttore di Temptation Island?